Dunque, riscriviamo 4 quinti e risolviamo l'operazione all'interno della parentesi tonda. Il denominatore comune è 8, 8 diviso 8 è 1, per 9 è 9, 8 diviso 4 è 2, per 3 è 6, quindi 9 più 6 diventa 15. 15 ottavi per 2 quinti, meno, il denominatore comune è 4 all'interno di questa parentesi, qua è come se ci fosse sotto 1, 4 diviso 1 è 4, per 1 è 4, e 4 diviso 4 è 1, per 1 è 1, quindi 4 meno 1 diventa 3 quarti. Ora, svolgiamo le moltiplicazioni. 15 e 5 hanno come divisore comune 5, quindi 15 diventa 3 e 5 diventa 1. 8 e 2 hanno come divisore comune 2, quindi 8 diventa 4 e 2 diventa 1. Perciò riscrivo 4 quinti, che rimane immutato, poi scrivo il risultato di questa moltiplicazione, 3 per 1 è 3, al numeratore, al denominatore 4 per 1 è 4, meno, allora adesso svolgiamo questa di moltiplicazione. 3 e 5 sono numeri primi tra loro, quindi rimangono così, 4 e 2 hanno come divisore comune 2, quindi, ecco qua, 3 per 1 fa 3 e 2 per 5 fa 10. Ora, risolviamo questo insieme di somme e sottrazioni. Il denominatore comune per tutti e 3 è 20, quindi 20 diviso 5 fa 4, per 4 è 16, 20 diviso 4 fa 5, 5 per 3 fa 15 e 20 diviso 10 fa 2, per 3 è 6, quindi 16 più 15, 31, 31 meno 6 fa 25 ventesimi. Ovviamente 25 e 20 non sono numeri primi tra loro, hanno come divisore comune 5, quindi posso semplificare per 5. 25 diviso 5 diventa 5, 20 diviso 5 diventa 4, quindi il risultato è 5 quarti.